buongiorno buongiorno a tutti e come sempre faccio passare qualche secondo in maniera che chi ha piacere si possa collegare e seguire questa diretta e poi naturalmente il video sarà a disposizione registrato sulla mia pagina facebook quindi buona giornata a tutti buon 10 agosto a chi è in ferie a chi al lavoro un saluto soprattutto a chi al lavoro con questo caldo naturalmente non è una cosa molto piacevole anzi decisamente faticosa allora io inizio con alcuni dati di base alcuni dati di partenza generali e anzi inizio con un ringraziamento in questo caso alla redazione di valori la rivista il sito web valori.it di cui vi ho parlato molte volte dando il mio giudizio sul fatto che è una testata seria affidabile e che dà dalle informazioni decisamente interessanti e importanti e quindi vi leggerò via di assumerò un loro speciale di una quarantina di pagine appunto sulla situazione plastica partendo con alcuni dati integrati anche da altre altre fonti e il dato iniziale è quello sulla crescita di produzione di plastica cioè negli ultimi 50 anni la produzione di plastica è aumentata di 190 volte attenzione non sto dicendo il 190 per cento sto dicendo 190 volte quindi matematicamente sarebbe il 19 mila per cento ancora più semplicemente 50 anni fa si producevano faccio per dire un milione di tonnellate adesso se ne producono 190 milioni non è il dato preciso ho fatto solo la proporzione per dire appunto che se ne producono oggi come oggi 190 volte di più rispetto a 50 anni fa e vi parlerò di quelli che sono gli obiettivi al 2030 anzi ve li anticipo subito così abbiamo un'idea di quella del fatto che comunque l'unione europea ha assolutamente presente il problema sta producendo una nuova direttiva in tema e questa direttiva prevede che entro il 2030 il 100 per cento degli imballaggi e sottolineo la parola imballaggi di plastica entreranno nel mercato dell'unione europea saranno riutilizzabili o riciclabili questo entro il 2030 ho sottolineato la parola imballaggi perché gli imballaggi sono il 40 per cento delle plastiche che girano nel mondo e nell'unione europea parlando invece di rifiuti plastiche in generale l'obiettivo è del 50 per cento del riciclaggio entro il 2030 e con un obiettivo intermedio per quanto riguarda gli imballaggi del 70 per cento entro il 2025 e questo comporterà anche una grossa possibilità a livello di posti di lavoro perché gli studi dell'unione europea hanno calcolato che i sistemi di raccolta e sistemi di riciclaggio aumenteranno di quattro volte rispetto al dato attuale e quindi creeranno 200 mila posti di lavoro quindi ancora una volta l'economia circolare come creazione di posti di lavoro si dovrà lavorare sulle sostanze chimiche che ostacolano il ciclo e queste sostanze saranno sostituite e eliminate e verrà introdotta una nuova metodologia di calcolo dei rifiuti dei rifiuti riciclati un altro tema importante riguarda l'ambito agricoltura attenzione molto spesso la plastica utilizzata in agricoltura è impregnata di fertilizzanti di fitofarmaci di pesticidi e quindi viene considerata un rifiuto speciale altamente tossico e parto dalla situazione agricola proprio per denunciare quella che è una situazione ancora poco conosciuta cioè il business della plastica per quanto riguarda la criminalità organizzata allora una buona fetta purtroppo di filiera agroalimentare è inquinata in questo caso non solo dalla plastica ma dalle mafie e c'è un sistema mafioso vero e proprio un cartello un cartello mafioso di imprese che è finalizzato all'acquisizione di posizioni dominanti nel settore economico della realizzazione degli imballaggi e questo perché la criminalità organizzata non guadagna solo con il capolarato e quindi la produzione dell'alimento ma guadagna anche su tutta la filiera e quindi anche sulla gestione della plastica la magistratura sta indagando e cos'è che hanno scoperto hanno scoperto che ci guadagnano anche sulla gestione vera e propria della plastica delle cassette degli imballaggi ma anche per il fatto che la plastica è l'elemento principale che serve per la costruzione e la manutenzione delle culture delle serre serre che dal centro Italia e soprattutto al sud Italia sono un numero elevatissimo in Sicilia per esempio ce ne sono talmente tante che finora non si è riusciti nemmeno a quantificarle non abbiamo neppure un'anagrafe precisa però sono tantissime e appunto la criminalità organizzata è riuscita a mettere in piedi un intero cartello per lucrare sia sulla vendita di queste plastiche per le cassette per gli imballaggi sia poi sullo smaltimento, sullo smaltimento illecito perché ovviamente queste plastiche come vi dicevo che sono impregnate di fitofarmaci, di fertilizzanti dovrebbero essere pulite e smaltite in una certa maniera e invece cosa succede? succede che ci sono le famose fumarole perlomeno famose per chi vive diciamo nell'Italia del sud che sono fuochi diciamo perenni in cui si bruciano migliaia di tonnellate di plastiche delle serre e cumuli di plastica che appunto anziché essere smaltiti in maniera adeguata vengono bruciati, vengono bruciati con tutto l'inquinamento che ne consegue e quindi ha fatto molto bene, sta facendo molto bene il ministro Costa a concentrarsi su questa filiera appunto della gestione illecita delle plastiche vi ricorderete le prime dichiarazioni del ministro Costa che poi le ha continuate a ripetere sul fatto che la plastica e l'inquinamento plastico rimane una delle emergenze principali qui in Italia tra l'altro c'è una situazione di oligopolio italiano anche per quanto riguarda le plastiche monouso la produzione di plastiche monouso attenzione questo è un oligopolio legale non lo sto assolutamente criminalizzando sto dando dei dati di fatto cioè che in Italia il 75% della produzione di oggetti monouso di plastica è in mano a sei società in mano a sei società che però essendoci delle compartecipazioni in buona sostanza la metà del settore è in mano a due soli importanti gruppi italiani che producono appunto stoviglie monouso in plastica e altri oggetti in plastica monouso e quindi non c'è una situazione di grande concorrenza e queste sei società hanno anche una redditività molto elevata perché in base ai bilanci hanno un ROE quello che tecnicamente si chiama return on equity che è 24%, 16%, 14% quindi sono dei margini molto elevati a livello di filiera di riciclo dovremo migliorare moltissimo dovremo migliorare moltissimo perché in Europa si ricicla un terzo del materiale plastico percentuale che a livello globale si dimezza ulteriormente quindi in Europa si ricicla un prodotto su tre nel mondo 1 su 6 quindi circa il 15% e l'80% dei rifiuti trovati sulle spiagge è di plastica è di plastica e principalmente sono 10 oggetti monouso 10 oggetti monouso è per questo che la nuova direttiva europea si chiama appunto single use plastic e si concentra sui oggetti monouso piatti, le cannucce i sacchetti per le patatine le posate, i contenitori per le bevande vi faccio vedere un attimo la pagina dell'Unione Europea appunto che preannuncia la nuova direttiva sulle plastiche monouso ve la faccio vedere un attimo eccola qua vedete single use plastic new rules to reduce marine litter insomma in italiano nuova direttiva sull'inquinamento marino da plastiche monouso come vedete commissione europea quindi la commissione europea appunto sta per produrre questa nuova direttiva andiamo avanti poi vi concludo il ragionamento con il discorso spiagge e mari e oceani le famose isole di plastica Samuele si sentono i tuoi soffi in maniera eccezionale scusa il mio figlioccio che ha un attacco di raffreddore dicevo questa nuova direttiva metterà al bando la plastica monouso è uno degli strumenti interessanti un ritorno al passato di quelli di quelli positivi è il discorso del deposito cauzione cioè entro 2025 gli stati dell'unione europea dovranno raccogliere il 90 per cento delle bottiglie di plastica per bevande introducendo anche il sistema del deposito cauzione quindi io ti ritorno indietro la bottiglia di plastica e tu mi ritorni i soldini oppure mi dai un credito nei supermercati o in altri negozi nei quali io vado a restituire le bottiglie di plastica quindi anziché come anziché fare come adesso che almeno le le differenziamo quindi tutte le varie bottiglie per gli alimenti le mettiamo sul bidone apposito anziché fare così avremo un ulteriore vantaggio e incentivazione perché le riportiamo indietro al supermercato ci saranno punti di raccolta nei quali o mi daranno un buono sconto oppure direttamente del denaro per la restituzione appunto delle bottiglie di plastica inoltre altra cosa importantissima verrà estesa la responsabilità del produttore anzi quella che si chiama responsabilità estesa del produttore verrà approfondita verrà estesa scusate la ripetizione perché dovrà coprire i costi di gestione di bonifica dei rifiuti difficilmente riciclabili quindi il produttore sarà altamente incentivato a fare tutto il suo packaging tutti i suoi materiali plastici il più facilmente riciclabili perché quanto più saranno difficilmente riciclabili tanto più dovrà pagare i costi di gestione e quindi capite che è il miglior incentivo per l'industria per fare oggetti facilmente riciclabili e questo è già stato calcolato farà risparmiare all'unione europea a noi cittadini sotto forma di tasse per gestire i rifiuti farà risparmiare 30 miliardi di lire 30 miliardi di lire 30 e scusate di euro 30 miliardi di euro 30 miliardi di euro e creerà 30.000 posti di lavoro su questa singola voce appunto di intervento ovviamente in tutto questo ci sarà sempre l'influenza delle lobby dei produttori allora io ribadisco per l'ennesima volta che lobby non è una parolaccia che non si può fare l'equazione lobby uguale cattivi non si può fare questa equazione tutti noi diciamo siamo lobbisti di qualche cosa tutti noi lavoriamo in un settore e quindi giustamente cerchiamo di portare avanti questo settore nella legalità quindi lobby ribadisco non è un signore non sinonimo di parolaccia però lo diventa nel momento in cui le pressioni diventano indebite diventano eccessive e soprattutto nel momento in cui evidentemente un politico cede a queste pressioni quindi diciamo che non esistono solo i lobbisti cattivi ma esistono anche i politici chiaramente cattivi chiaramente la storia ha dimostrato che finora molto spesso le lobby cercano di rallentare i processi legislativi che devono portare a un emanazione di leggi che in qualche maniera gli vanno a ostacolare a ridurre il loro il loro lavoro e per fare questo le lobby spendono molto lobby spendono molto nel settore della plastica hanno speso più di 30 milioni di euro negli ultimi anni attraverso 666 lobbisti è il numero per qualcuno dire qualche cosa ma è un caso 666 lobbisti di cui 64 accreditati verso l'europarlamento con 120 incontri con commissari o capi delle direzioni generali delle commissioni quindi chiaramente fanno il loro lavoro li ribadisco il problema è quando le pressioni diventano veramente eccessive e quando il politico chiaramente cede a queste pressioni altro problema è che naturalmente le associazioni ambientaliste hanno meno soldi banalmente hanno meno soldi e quindi le loro attività di diciamo così di contro informazione di compensazione sono quantitativamente minori è molto conosciuto il caso del clifosate e ve ne racconto un altro è un caso è un altro un altro elemento chimico è un altro pesticida che si chiama di quatt di quatt che è prodotto da quella enorme multinazionale svizzera che si chiama singenta più di due anni fa l'autorità europea per la sicurezza alimentare per la sicurezza alimentare aveva espresso dei timori forti sulle conseguenze sulla salute umana di questo pesticida aveva prodotto una serie di documenti questa autorità per la sicurezza alimentare dati alla commissione europea caldeggiando la messa al bando la messa al bando appunto di questo di quatt di questo pesticida e la commissione preceduta da juncker ha pensato bene di rallentare il processo e quindi non si è non si è arrivati alla messa al bando di questo di questo pesticida a livello globale naturalmente i produttori sono pochi ed enormi sono pochi ed enormi il mercato globale è diciamo gestito da 6 7 produttori tra cui al secondo posto c'è la nostra la nostra tra virgolette eni al primo posto come fatturato c'è la basf poi al terzo posto da o chemica l'ion del base la exxon mobil anzi no scusate qui non li hanno messi in ordine di fatturato allora semplicemente le più grandi sono queste basf eni down chemical leon basel exxon mobil sabic ineos lg chemical che vanno phillips e l'anxess naturalmente a parte alcune il resto dei nomi per noi sono sono sconosciuti naturalmente questi produttori stanno spingendo per produrre sempre più manufatti in plastica e chi ha interessi nel petrolio li vuole produrre naturalmente su base petrolio ora una precisazione è doverosa in questo momento ci sono prodotti che devono essere a lunghissima durata devono essere lunghissima durata faccio l'esempio dei cavi elettrici che ognuno di noi ha in casa in casa c'è l'impianto elettrico l'impianto elettrico è costituito da centinaia e centinaia di metri di fili in cui l'anima interna è tipicamente di rame o comunque un altro un altro metallo conduttore che conduce l'elettricità e poi c'è la guaina isolante che è di plastica che avvolge tutto tutto il metallo ecco questa plastica questa guaina isolante ovviamente deve durare moltissimo sarebbe un enorme problema se si sfaldasse sarebbe un enorme pericolo per cui la vera sfida adesso non è tanto sostituire gli oggetti monouso quelli che possono durare poche ore pochi giorni la svela la vera sfida per il futuro sarà trovare alternative non inquinanti agli oggetti che devono durare moltissimo quindi la plastica per l'edilizia la plastica per l'elettronica la plastica per l'automobile è un'automobile a 10 15 20 anni può durare tranquillamente io non posso fare un paraurti o altre parti interne con plastica che si che si sfalda prima quindi la grossa sfida è appunto sulle plastiche di lunga di lunga durata che devono assolutamente durare nel tempo e l'arabia saudita si sta muovendo molto su questo su questo tema c'è chiuso un accordo tra la saudi aramco che è la più grande azienda petrolifera nel mondo e la down chemical per appunto naturalmente produrre plastica da petrolio e come detto questa proposta di nuova direttiva single use plastic quindi nei giornali magari leggendo troverete l'acronimo sup sup che vuol dire appunto single use plastic adesso questa proposta passerà al vaglio del parlamento europeo e quindi la tempistica dipenderà da quanto gli stakeholders i lobbisti cercheranno di rallentare il processo o di influire appunto sul sul processo stesso vi ho già detto che il lavoro da fare è enorme perché a livello europeo ricicliamo il 30 per cento a livello mondiale ricicliamo ricicliamo appena il 15 per cento quindi i margini di miglioramento sono enormi i produttori da materiale vergine sono moltissimi e invece i produttori da materiale riciclato sono piccoli e frastagliati e a livello energetico è banale ma ricordiamolo creare plastica con il riciclo costa molta meno energia che non creare plastica vergine dal petrolio quindi a livello energetico quindi economico è molto più conveniente ricicliare plastica utilizzando plastica riciclata è molto più costoso farlo partendo da petrolio quindi capite che gli interessi in gioco sono molto molto elevati nei processi di riciclo ugualmente c'è del lavoro da fare perché in questo momento vengono utilizzati additivi pericolosi molte lavorazioni vengono fatti nei paesi extra o è in condizioni ambientali pessime e quindi c'è emissione di inquinanti in falda in terra in aria e quindi naturalmente la gestione deve essere migliorata moltissimo c'è moltissimo ancora utilizzo delle plastiche negli inceneritori cosa che l'abbiamo già detto l'unione europea mette al penultimo posto all'ultimo posto c'è la discarica al penultimo posto quella che viene chiamato recupero energetico quindi bruciare bruciare la plastica quello che si deve quello che si deve a fare naturalmente è supportare l'economia circolare quindi prevenzione di produzione dei rifiuti quindi riprogettazione sostituzione con materiali e biodegradabili progettazione di plastiche più facilmente più facilmente riciclabili con un fine vita certo e tutto questo viene è stato racchiuso in un pacchetto di innovazione tecnologica che è stato penso diciamo nero su bianco dalla fondazione l mancarthur fondazione di questa donna se non erro inglese se non erro che è molto famosa nel mondo perché prima ha avuto una carriera giamo sportiva molto importante nel 2005 aveva battuto il record di navigazione solitaria si è fatta tutto il pianeta in solitaria in barca quindi decisamente una donna che sa il fatto suo perché fare il giro del mondo da soli in barca a vela non è certamente una cosa semplice e poi proprio osservando le pessime condizioni del mare a livello di inquinamento plastico ha deciso di impegnarsi moltissimo proprio nel settore ambientale e quindi è molto conosciuta se la cercate su internet troverete molto suo materiale e magari inizierete a seguirla è noto a tutti il problema dell'inquinamento oceanico patrimoni dell'unesco come isole coralline hanno il record di avere zero abitanti ma la più alta densità di rifiuti plastici del pianeta ci sono 670 pezzi di plastica per ogni metro quadro e questo è un'isola corallina situata a sud del pacifico che è stata dichiarata patrimonio dell'unesco e poi l'inquinamento ovviamente si estende in tutto il mondo Indonesia è che è il secondo maggior produttore mondiale di rifiuti plastici alle Hawaii in Honduras nei Caraibi persino nel nostro mar Tirreno e anzi il nostro mar Mediterraneo è letteralmente una zuppa di plastica cioè il nostro mar Mediterraneo ha un livello di inquinamento di da plastica enorme che è stato quantificato in in 10 chili 10 chili di plastica ogni chilometro quadrato le zone più colpite sono il terreno settentrionale tra la Corsica e la Sardegna però tutta tutto il Mediterraneo purtroppo il mar Nostrum è diventato una zuppa di plastica ribadisco 10 chili di plastica ogni chilometro quadrato e sono decisamente troppi sono decisamente tanti troppi un dato che ci fa capire la produzione di rifiuti nel Mediterraneo sulle coste del Mediterraneo ci sono 150 milioni di abitanti e producono tra i 200 e 760 chili pro capite di rifiuti con un grosso peggioramento durante la stagione estiva perché nella stagione estiva si aggiungono agli abitanti normali 200 milioni di turisti 200 milioni di turisti che fanno lievitare del 40% la produzione di rifiuti sulla pericolosità delle plastiche penso sia assolutamente inutile ritornare ripetiamo semplicemente che le plastiche tra i vari effetti hanno quelli di essere interferenti endocrini quindi vanno a modificare quello che è la produzione di ormoni la produzione di ormoni sugli uomini e sugli animali e credo che chiunque di voi anche con una diciamo conoscenza scientifica medica base sa quanto gli ormoni sono importanti per tutta la nostra vita in tutte le fasi della nostra vita quindi andare a interferire con la loro produzione è quanto di peggio ci possa essere il dramma è che in italia noi abbiamo pochissimo monitoraggio in inghilterra hanno fatto una ricerca hanno scoperto che nell'86 per cento degli adolescenti nell'86 per cento quindi quasi tutti c'è una presenza di bisfenolo appunto nel 86 per cento dei ragazzi e questo bisfenolo naturalmente è una sostanza assolutamente pericolosa e sulle sulle alternative plastiche ho già fatto più di un video quindi vi rimando a quelli vi ho già fatto vedere come in italia abbiamo delle punte di eccellenza di chi produce plastiche biodegradabili compostabili biodegradabili negli ultimi tempi negli ultimi tempi è esploso il fenomeno oho cioè un packaging mangiabile fatto con le alghe ve lo faccio vedere un attimo ve lo faccio vedere un attimo è una plastica appunto che tu puoi mangiare perché è fatta con le alghe vi faccio vedere l'home page del sito eccola qua quindi con questa plastica si possono fare le bottiglie per contenere acqua e altri 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 altre bevande e al termine ci si può mangiare tranquillamente anche la bottiglia perché è appunto commestibile fatta con alghe questo fra l'altro mi permette di ricordarvi il la possibilità che voi investiate i vostri soldi nella maniera più opportuna che ritenete cioè troverete un mio video sul crowdfunding quindi questa possibilità che i vostri risparmi anziché investirli diciamo così nelle maniere classiche potete scegliere voi nuove aziende o anche vecchie che chiedono prestiti ai privati e essendo prestiti vengono restituiti e possono e possono appunto voi potete scegliere l'azienda che più vi piace quindi anche a livello ambientale per esempio questa questa nascerà avendo raccolto diversi milioni di dollari con questa richiesta di fondi a cui hanno risposto centinaia di migliaia di cittadini da tutto il mondo appunto prestando del denaro ribadisco ci sono l'ho spiegato nel mio video c'è un crowdfunding a perdere quindi io proprio regalo del denaro però c'è anche un crowdfunding che si chiama equity crowdfunding nel quale io divento un prestatore e il denaro mi viene restituito ovviamente mi assumo il rischio di prestare su un'azienda che sta per nascere potrebbe andare benissimo ma potrebbe andare anche malissimo quindi chiaramente è una scelta di investimento ma lo trovate appunto nel mio video apposito sul crowdfunding detto questo per esempio anche un'altra auto elettrica che sta per essere prodotta in germania quella anche su questo ha fatto un video un'auto elettrica con i pannelli fotovoltaici attorno all'auto stessa cioè che fanno parte della carrozzeria stessa anche quella è stata finanziata col crowdfunding questo lo dico per ribadire che i vostri soldi chi ovviamente ha dei risparmi ovviamente chi ha dei risparmi può decidere di investirli su progetti ambientalmente molto molto sostenibili anzi di miglioramento appunto di quella che è la situazione ambientale allora detto del contenitore del contenitore di plastica commestibile alcuni comuni stanno facendo dei passi ulteriori cioè stanno vietando tutta una serie di imballaggi in plastica per esempio c'è un burgo che ha vietato ha fatto proprio una blacklist quindi una lista lista nera quindi una lista da censurare in cui mette al bando l'acquisto da parte degli enti pubblici di tutta una serie di prodotti appunto in plastica vuoi monouso o comunque plastica e questo quindi è un suggerimento a tutti gli enti pubblici e anche questo mi permette di ricordare che la nuova normativa sugli appalti permette di valorizzare positivamente quanto più il prodotto sia ambientalmente sostenibile quindi a parità di prezzo o anche con prezzi differenti io posso scegliere un prodotto che potrebbe anche costare di più se questo ambientalmente è più sostenibile questo lo permette la legge lo permette il nuovo codice degli appalti e faccio sempre l'esempio appunto dei bicchieri io posso prendere dei bicchieri in plastica biodegradabile che costano un po' di più della plastica diciamo da petrolio non biodegradabile perché la legge mi consente di valorizzarli appunto positivamente bene detto questo naturalmente la sfida del futuro sarà quella di trovare una materia plastica innovativa facile ed economica da produrre ecocompatibile eliminando il problema alla radice e su questo l'Unione Europea sapete sta decidendo una nuova tranche di finanziamenti alla ricerca e quindi naturalmente una grossa fetta verrà dedicata anche a questa materia volevo chiudere il cerchio con un paio di altri dati che mi ero segnato e il dato principale è questo che mi permette di chiudere il ragionamento e quindi questa puntata io vi ho parlato della situazione italiana ed europea e credo sia a livello di politica importantissimo andare il più avanti possibile su questa produzione pulita perché? perché in questa maniera sarà possibile applicare una tassa sulle esternalità negative a qualsiasi prodotto che circoli per l'Unione Europea da alcuni mesi, da qualche anno, circola infatti l'opzione di tassare le esternalità ambientali negative cioè quanto inquinamento ha prodotto qualsiasi articolo, qualsiasi prodotto che gira per l'Unione Europea quanto più la produzione europea sarà pulita, tanto più i prodotti europei saranno poco sovratassati perché avranno prodotto poco inquinamento invece negli altri stati dove la produzione è molto più sporca questa tassa aggiungerà un prezzo molto più elevato e quindi perderanno con correnzialità i prodotti che arrivano da fuori Europa in questa maniera l'industria europea e italiana saranno pronte non lo saranno quelle estere e poiché il 90% delle plastiche viene prodotta da 10 fiumi o meglio si ritrova e quindi viene prodotta fuori Europa fuori Europa in questi grandi complessi industriali che si trovano in Cina, in Indonesia in altre parti del mondo ecco che così facendo noi metteremo in atto la politica migliore per far sì che negli altri paesi se vogliono rimanere concorrenziali diventino molto più puliti nella produzione di plastica perché come vi ho detto il 90% della produzione di plastica e quindi anche di sversamento negli oceani di plastica avviene nel resto del mondo quindi noi europei siamo già più avanti abbiamo già messo per esempio al bando i sacchetti per la spesa le microplastiche nei cosmetici dobbiamo fare ulteriori passi in avanti in questa maniera saremo pronti un domani a imporre una tassa sull'inquinamento cioè qualsiasi prodotto che venga venduto in Unione Europea dovrà avere un sovrapprezzo tanto più alto quanto più è stato prodotto in maniera sporca e il suo fine vita è sporco cioè quanto più è difficile da riciclare in questa maniera avremo un'industria italiana ed europea pronta e quindi competitiva un'industria degli altri paesi non pronta venderà di meno e dovrà adeguarsi quindi dovrà diventare più pulita e quindi avremo il massimo dei vantaggi possibili se vogliamo salvare noi stessi da questo inquinamento perché ricordiamolo la plastica arriva negli oceani si disgrega rimane assolutamente plastica ma quando arriva a dimensioni inferiori ai 5 mm comincia a venire mangiata dai pesci e quindi entra nel circolo alimentare circolo alimentare che naturalmente ci vede tutti quanti assolutamente coinvolti quindi è essenziale che non solo in Europa ma in tutto il mondo venga cessata la produzione di plastica non biodegradabile e si passi solo a quella biodegradabile questo sicuramente per gli oggetti con uso breve con uso lungo bisognerà farli intanto riciclabili al 100% e poi ovviamente andare avanti con la ricerca finché non si troveranno delle plastiche che dureranno anche magari 20-30 anni 40-50 anni ma alla fine comunque saranno biodegradabili con tempi molto molto più lunghi ma l'importante è che alla fine siano biodegradabili per quegli usi come vi dicevo prima in edilizia nelle automobili eccetera e quegli usi in cui invece ho bisogno che la plastica mi duri assolutamente moltissimo tempo ecco con questo vi lascio vi auguro naturalmente buon agosto buon ferragosto se non ci sentiamo prima e quindi io vado avanti con altre cose ci risentiremo non appena avrò altre cose da comunicarvi intanto buon agosto a tutti ciao